Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. Dopo la pausa per le nazionali, questa settimana riprendiamo con il club della scommessa. Infatti in questo video vedremo i risultati delle partite dal puntata numero 11 del club della scommessa, sperando naturalmente che tutti i pronostici siano vincenti. In caso contrario il gioco continuerà solo per coloro che avranno indovinato il proprio pronostico, mentre chi non l'avrà indovinato sarà eliminato dal gioco. Ma adesso andiamo a vedere i risultati delle partite. Il primo partecipante, Cosimo Di Viccaro, aveva pronosticato Milan-Inter 1, finito 2-3, perdente. Poi abbiamo Giuseppe Fascella con Villareal-Raio-Valecano, over 2-5, finito 3-1, vincente. Giovanni Di Corato, Spal Roma 2, finito 2-1, perdente. Andrea Campese con Torino-Bologna 1x, over 1-5, finito 2-3, perdente. Giuseppe Liberti con Inizia Tolosa 1, finito 1-1, perdente. Giuseppe Di Benedetto con Lazio Parma 1, over 1-1, finito 4-1, vincente. Vincenzo Colucci con Sassuola-Sampdoria, x2, finito 3-5, vincente. Nicola Di Stasio con Empoli-Frosinone 1, finito 2-1, vincente. Ruggero Marzocca con Benedetto Spezia, 1-2, over 2-5, finito 2-3, perdente. Carlo Rizzi con Foggia-Cittadella 1, finito 1-1, perdente. Cosimo Colucci con Atalanta-Chievo, over 2-5, finito 1-1, perdente. Angelo Di Corato con Genoa-Juventus 2, finito 2-0, perdente. Christian Fox con Leverkusen-Werder Brema, gol, finito 1-3, vincente. Gianni Persia con Napoli-Udinese, pari, finito 4-2, vincente. Luigi Cafagna con Olympique Lyon-Montpellier, multigol, da 2-4, finito 3-2, perdente. Johnny Junior con Real Madrid-Seltavigo, 1-1, più gol, finito 2-0, perdente. Johnny Prazzi con Livorno-Saranitana, 1-X e under 3-5, finito 1-0, vincente. Alessandro Crudo con Real Betis-Barcellona, over 1-1, mezzo casa, finito 1-4, perdente. Ed infine Gianni Carbone con Verona-Ascoli, 1, finito 1-1, perdente. A passare il turno sono Giuseppe Fascella, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 persone. E solo queste sette, che vi ripeterò adesso, solo queste sette che sono Giuseppe Fascella, Giuseppe Di Benedetto, Vincenzo Colucci, Nicola Di Staso, Johnny Praz, Christian Fox e Gianni Persia. Dunque, solo quelli che ho elencato adesso, sotto questo video, con un commento, devono pronosticare tre partite a testa dei campionati principali, come Spagna, Francia, Inghilterra, Germania e Italia, Serie A e Serie B, con quota non inferiore a 1,45, che giocheranno questo fine settimana, da venerdì 29 fino a 1 aprile. Avete tempo per pubblicare il vostro pronostico dalle tre partite entro giovedì 28 alle ore 14. Se non commentate il vostro pronostico entro giovedì, o pronosticate una partita già pubblicata da un altro prima di voi, sarete automaticamente eliminati e non parteciperete alla seconda fase di questo gioco, del Club della Scommessa numero 11. Vi ricordo inoltre che ogni mercoledì inizierà sempre un nuovo gioco, dove tutti potrete pronosticare una partita e partecipare gratuitamente al nuovo gioco del Club della Scommessa. Provate a partecipare al prossimo gioco ed invitate anche i vostri amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!